Il 31 ottobre è la data fissata dal governo Draghi per la fine dell'obbligo nell'uso della mascherina all'interno di RSA e ospedali sia per visitatori che per pazienti e sanitari. Un termine che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe non essere prorogato dal Consiglio dei Ministri previsto per oggi, vale a dire che da domani si potrebbe accedere alle strutture sanitarie anche senza alcun dispositivo di protezione aerea. Una scelta che sta facendo discutere per le conseguenze che potrebbe avere sui più fragili. Gli ospedali sono degli amplificatori naturali di infezione e di contagio, per cui sono luoghi molto particolari. Io direi che dovremmo ancora per un po' tenerle le mascherine. Aspettiamo quest'inverno, c'è anche l'influenza, non solo il Covid, quindi non facciamo entrare germi in ospedale inutilmente. L'abbiamo tenuta per due anni e mezzo, quasi tre, finiamo l'anno e poi andiamo a vedere quello che succede. Da medici a infermiere arriva un appello affinché l'obbligo rimanga almeno per tutto l'inverno o addirittura per sempre, come chiede la Fondazione Gimbe. L'altra soluzione potrebbe essere che ogni ospedale adotta delle proprie regole. Magari nelle unità, nei reparti più a rischio, parlo delle terapie intensive, della chirurgia e via dicendo, magari lì le mantiene. Con i dati in calo, ma l'inverno in arrivo, ci si prepara ad una nuova ondata, che però non sarà come quelle degli inverni scorsi. Siamo in questa indemnizzazione, il virus si adatta sempre di più a noi, facendo il suo lavoro, che è quello di adattarsi. Perché il virus fa due cose, contagia e si moltiplica all'infinito. Non fa altro. Dovremmo abituarci ad avere queste piccole ondate epidemiche con pochissimi casi annualmente. Ma è questo, il coronavirus è questo. Lui sta diventando questo. Due giorni di febbricola, un po' di mal di colore a freddore, quattro giorni passa tutto, cinque giorni passa tutto. Insomma, non c'è nulla da temere, assolutamente, anzi stiamo andando bene. Però cautela, ancora cautela, perché la pandemia non è finita.